Grazie a Dio sono di natura una persona che si riprende dalle difficoltà o semplicemente una persona positiva. Per 57 anni ho mangiato le unghie. Per me era una grossa dipendenza, non riuscivo a smettere. Ciò che io e i miei genitori non riuscimmo a fare è riuscito Bruno Gröning. Per me è un regalo meraviglioso. Ora ho delle unghie nuove. Dalla primissima infanzia avevo questa cattiva abitudine di mangiare le unghie. Penso di aver iniziato a due anni e mezzo a mangiarmi completamente le unghie e nei primi anni anche le unghie delle dita dei piedi. A volte le dita sanguinavano perché appena sentivo anche solo un piccolo accenno di unghia già la mangiavo. Questo si acuiva quando in famiglia c'erano problemi e i problemi erano frequenti perché i miei genitori avevano educato me e mio fratello molto severamente. volevano il meglio per noi e tenevano molto a pulizia e igiene. Mangiare le unghie era completamente inappropriato per loro. Tutto portava a una punizione. I miei genitori mi vietavano di uscire. Oppure venivo picchiata, a volte con un guinzaglio o con un cucchiaio di legno. Quando tornavo a casa avevo sempre paura di ciò che mi sarebbe successo. Avevo le mani sudate davanti all'ingresso di casa e avevo tanta paura per ciò che mi sarebbe capitato. A volte succedeva che non facevo in tempo ad aprire la porta che mia mamma già mi aveva mollato uno schiaffo. Non sapevo nemmeno perché. Spesso mi svegliavano di notte. Mettevano la sveglia per ogni ora e ogni ora mi chiedevano se avrei di nuovo mangiato le unghie. E io ogni volta assicuravo. No mamma, non lo faccio più. No papà, vi prometto fermamente che non lo farò più. Ma il giorno dopo mi mordevo di nuovo le unghie. Ero sempre sotto osservazione. Quindi mangiavo le unghie per la maggior parte del tempo a scuola, quando i genitori non mi vedevano. Volevo tanto imparare a cucinare perché mia mamma cucinava molto bene. A noi piacevano molto i suoi piatti. Ma né mamma né papà mi lasciavano avvicinare alle pentole. Dicevano no le tue unghie mangiate ci fanno senso. E quando papà si sedeva sulla panca si faceva servire dalla mamma. Edith portami questo. Edith portami quello. Oppure portami l'acqua. Io non potevo mai portargli un bicchiere d'acqua perché diceva non bevo niente di ciò che tocchi. Mi fai senso. Io mi sentivo bene solo fuori casa. A scuola facevo spesso degli scherzi. Credo mi servissero come sfogo. Per esempio portavo coccinelle nei calzini che poi liberavo le prime file e che poi ronzavano intorno alle orecchie dell'insegnante. E tutti sapevano che potevo essere stata solo io. Ricordo perfettamente che da noi c'era un mattatoio. Prendevano la bile del bue e e mi imbrattavano tutte e dieci le dita. Allora avevo dieci dita verdi e poi mi dicevano guarda come sei conciata. Sembri un diavolo. Vergognati. E così andavo a scuola. Ma quello amaro sulle dita non mi disturbava. Era molto amaro. E con questo volevano distogliermi dal mordermi le unghie. Ma a me non mi importava e continuavo a mangiare le unghie. Quando c'erano delle ricorrenze particolari come un compleanno o una festa, viziavo i miei genitori con dei regali. Era una cosa dentro di me. Penso che volessi comprarmi il loro amore. Oggi so che ciò non è possibile. Ciò che più mi faceva soffrire era che mi punivano sottraendomi amore. A volte non mi parlavano fino a tre giorni e mi ignoravano completamente. Solo la mattina la mamma mi svegliava. Alzati, fai colazione, vestiti. Tutto intorno di comando e il più brevemente possibile. A mio fratello fu vietato di parlarmi. Non poteva parlarmi e così ero completamente isolata. I miei genitori avevano sempre dei cani, sempre dei bassotti. c'era Molly e a lei confidavo le mie preoccupazioni. Era il mio surrogato. Non avevo la forza e il coraggio di andare via da casa. Solo quando raggiunsi la maggiore età, prima non avrei nemmeno potuto. Poi conobbi mio marito. Era l'opposto di mio padre. Era calmo. Aveva 15 anni più di me. Era un sostituto del padre. Non si arrabbiava mai e le mie unghie gli erano totalmente indifferenti. Io sapevo che era una grossa dipendenza. Non ho mai chiesto ad un medico perché mi vergognavo troppo. Cosa avrei potuto dirgli? Che mi mangiavo le unghie? Però spesso parlavo con Dio dicendogli che non volevo più vivere, che quella non era vita. Una galera era il termine giusto per la mia vita. La mia vita è cambiata nel 2000. Incontrai un'amica, andammo a passeggiare e mi raccontò di Bruno Gröning, dell'insegnamento, dell'assorbire la forza e che tutto può volgere al bene. A quel tempo era ancora piuttosto oberata e la mia amica mi fece la proposta di venire ad un'ora di comunità e di fare prima l'introduzione. Fui d'accordo e feci l'introduzione. La cosa meravigliosa fu che lì si diceva mani aperte, palmi all'insù e assorbire la forza. Per me scattò qualcosa. Seduta lì, con le mani aperte, nessuno vede le mie unghie smangiucchiate. Pensai, qui mi sento al sicuro, qui sono a casa. E così andai regolarmente alle ore di comunità. Assumevo la forza e mi faceva bene. Sebbene mi sintonizzassi sempre per la piena salute, l'ordine e la guida divina, non avevo consapevolmente consegnato l'abitudine di mangiarmi le unghie. Nel subconscio probabilmente questa abitudine mi apparteneva. non riuscivo a immaginarmi altro. Dopo circa due anni presi coscienza che non mangiavo più le unghie. Guardando indietro posso dire che già durante i primi sei mesi in cui ero nel circolo degli amici avevo smesso. Bruno Gröning ha fatto in modo che io me ne dimenticassi. è stata una sensazione di liberazione. Naturalmente mi comprei un set per manicure, mi limavo le unghie e mi occupavo molto di loro. Le curavo moltissimo. Volevo che le unghie ricrescessero. Fu un periodo meraviglioso. Diventai più sicura di me, non avevo più la coscienza sporca e non mi vergognavo più. Ho di nuovo accettato di andare ad incontri con ex compagni di scuola. Partecipavo a tutto. La mia autostima aumentava. Quando vado al cimitero alla tomba dei genitori mi sento bene e mi sento attirata ad andare lì. Dico ai miei genitori grazie per avermi donato la vita e cerco veramente di pensare ai loro lati positivi. e sono sempre in pace e in armonia. Li ho perdonati di tutto. So che dal loro punto di vista volevano il meglio per me. Questa forza di perdonare mi deriva dall'insegnamento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.